Passato finalmente lo strumento, la volta verso l'Ulzio e andiamo verso l'Ulzio in lontananza Abbiamo fatto praticamente il posto del livello L'ultimo tratto sarà quello tra Ulzio e Gesalav Decisamente i tratti più duri sono finiti e per fortuna, a parte qualche sparuto fioppo di neve il meteo attenuto rispetto alla floreccia le ilareno delle pilota l'lorett RB 나도 è meglio da metterle катere